Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in direzione sud per traffico tra Barberino e Calenzano, in carregiato opposta quindi verso Bologna, rallentamenti ancora una volta per traffico tra Calenzano e BV1 variante. Prudenza per vento forte in A12, raccomandiamo particolare prudenza a mezzi terronati e caravan. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario, per un problema tecnico in partenza il treno regionale 6636 Arezzo-Firenze-Santa Maria Novella ha maturato un ritardo di 24 minuti, di conseguenza ritardi e cancellazioni per i treni in linea. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo in settimana lavori di asfaltatura in via Palazzo dei Diavoli e via di Scandicci. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infio, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!